Grazie a tutti In crisi, in crisi No, non riprendere, io ho paura Ho paura io Anzi io Nessuno, nessuno l'ha detto qua Davide, sono cinque anni Ma io volevo stare qui dentro però Non è giusto però Uomo, uomo 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 Non so, non ho idea Sì, stavo a registrare Perché ho un po' di pace E tutto, tutto nuovo Io sono La gemma E con la pinetti Mi vedi troppo la girata che ho fatto E il bete, retroguardi devono avanzare Retroguardi avanziamo Nessuno, nessuno Nessuno, nessuno È l'africa Assalto al cibo I pompi di nico Il commento del ministro Soveremo Scusate Scusate Allora Ok Dime quando Ok Ciao Ciao a tutti, gli italiani lavorano in una web tv chiamata Spleen Web TV. Quindi abbiamo avuto intervistare questi due due persone e parlano di se c'è un web tv in Svdl, no? In Anstam? Si lavorano in un progetto semplice? No. Che cosa è? Ok, non lo sai? Ok, non lo sai? Ok, ok. Il nostro web tv chiamata è sulle persone, è sulle persone nuove in Asti e noi tutti attiviamo la scuola e abbiamo avuto la nostra scuola o le nostre attività e questa web tv è fatta da Jung e è come YouTube, come un canale tv quando puoi vedere le noti puoi guardare le noti e questo è diventato in canale Escolta il canale e magari il mio nome se ti riesci a riprendere ho il primo di un po' con una mano eh, sono una mano e ti dà a salarvi e... adesso... si stanno all'ultimo mar camminando dai minci ma è tu, vai, intervista vai, vai ma non chiedevi se hanno preso sui maxi ma non ce l'ha, non capisco come non mi cominciano come stanno io? e nel web, per esempio tu puoi scrivere per esempio www.splayweb2who.com e tu puoi vedere la nostra la nostra ok ok in questo progetto per esempio hai chiesto di us per esempio una domanda una domanda sembra una cosa divertente incontrare nuove persone da altre culture e tu? e tu? come si prepari il progetto con la tua professione o 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 Abbiamo fatto una discussione Come si è stato un'altra parte Come si è stato un'altra parte Come si è stato un'altra parte Noi non abbiamo preparato In questi Teams Abbiamo scelto di queste Teams Abbiamo scelto di oggi Cosa? Sì Sì Non lo so Ok, bravo Cosa? Cosa 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 Grazie 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 Grazie